Scattano puntuali, come ogni autunno, le limitazioni al traffico per i veicoli inquinanti. Lo stop agli Euro 0 inizia domani, 15 ottobre, così come disposto da Regione Lombardia. Il divieto si applica da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e durerà fino al 15 aprile. Sono interessate dal provvedimento le automobili Euro 0 benzina ed Euro 0, 1 e 2 diesel, stop anche alle moto e ai cinquantini due tempi Euro 0. Le limitazioni alla circolazione interessano la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e gli altri comuni appartenenti alla zona A, tra i quali Como, Arosio, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Casnate con Bernate, Figino-Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Lipomo, Mariano Comense, Novedrate e Senna Comasco. Il divieto si applica su tutti i tratti stradali all'interno dei territori indicati, comprese le strade provinciali e le statali, ad esclusione di autostrade e strade di interesse regionale. Sono esclusi dal blocco della circolazione i veicoli di chi svolge funzioni di pubblico servizio o servizi manutentivi di emergenza, dei commercianti ambulanti, dei mercati settimanali scoperti, dei medici e dei veterinari in visita urgente e dei lavoratori con turni tali da impedire l'utilizzo dei mezzi pubblici. Escluse anche le auto con a bordo almeno tre persone e i veicoli con il contrassegno di accompagnamento per i portatori di handicap. Queste sono solamente alcune delle deroghe, ma sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it si può leggere il provvedimento nel dettaglio.